paura dipende cosa intendi per paura a volte a volte diciamo che vabbè l'avevi visto in il caffè d'ostoyes che Alation che fa il sotto in cucina che se ne fa 4 in 15 secondi si ho visto qualche lights ma non me ne ricordo tutto però io mi son visto la partita in villa e quella in costa che hanno perso i makers 7 a 0 no spoilerare porco dio ah scusa poi a che punto sei sei ancora all'inizio è la seconda partita e stavo guardando che sono su un no raga villa perché è villa rip che sono su banca si vai c'è il gioco ok c'è il gioco hello hello rega salve buon porno io sono freddo hai credo ce lo metto? perchè non scrivi prima sul gruppo? perchè? eh perchè no se ci ho guardato adesso non ho scritto niente eh dei ormai frank devi aspettare una partita eh ormai è tardi eh perchè non c'è scritto nulla non hai letto nemmeno i messaggi eh eh lo so però se non ci dici niente noi pensavo che tu leggermente non l'avessi fatto e che tu venissi più tardi perchè infatti la scream non si fa ma votate pure voi non è che mi venite dietro a me ti ho metto a casa eh non ce l'ho scelto da nessuno beh mira non è una brutta scelta perchè se loro adesso stanno in difesa e nella reazione mira è una bella scelta da bannare sono stati bannati i classici ci sta classics stranamente non è stata bannata a clash strano no a te lo domani non ci sono vecchie no a te lo domani non si fa niente anzi domani meno di oggi where are you from? dove viene? oh Italy va bene Italy Italy no 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 France 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 si si raga cioè ragazzi io ci voglio chiedere avviate la ranked e Frank mi fa abbiamo sentito abbiamo sentito il favore gioca bene gioca bene grazie mille yes yes ma Alf dov'è? che cosa? Alf e lombi dov'è il vostro termite toucher cazzo se non stavo guardando il telefono l'aveva presi io scusatemi no ero il telefono fai conti io pensavo avessi cioè prendessi il termite infatti ho preso all'ultimo ibana no piché poi ragazzi una legnata di raffreddore è incredibile boel che grado sei? il shanks oh praticamente un 3 ma è italiano? no è francese è il pato del baliano affaccura la muta oh no è il coppo no io ho capito tua lingua vabbè via scusalo scusalo il coglione scusalo il coglione oh jex scusa scusami 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 ti capisci confuso cazzo di merda vabbè va a fanculo si coglione ho nati molto pezzo di merda fanculo vai testa di cazzo no va di merda se un francese c'hai il culo su dice di merda vai in culo vai vai va di capace di merda tanto uno salsi vuol dire c'hai il culo su dice di merda cazzo di merda porta aperta qua come lombardi scherzo le vuoi sempre far te con tutti i lamenti cioè è sempre la gara per farle è la verità sono bambino io devo vincere le gare posso fare mica come onda che le perdi vengo a togliere sti cazzo di bandit il drono nice nice man sta pushando dentro con una cattiveria indecente no cavera 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 fui fui ok diegar qua alfa guarda che non ci sono bandit ah perditi e quando me lo dite eh l'ho visto adesso eh niente rip onda che mi devi passare ogni volta davanti no onda che mi passo ogni volta davanti toc toc legion e bandit ritirizzatissimi capri dietro come ha fatto si capri interrogate no Rich Fortune hai bisogno di hash un po' so shock no devo scartare vai alto pushala e vabbè cap da dietro qua da me lì c'evo una quarto di vita lungo il corridoio dietro andata ok della facuta non ci credo corridoio bandit ultimo uomo per la squadra alleata vorrei per il rogue c'evo una quarto di vita un colpo lo butti giù abbiamo Doesnë Lai la fa uno, non nemmeno io, vero Minchia, Coppa, è il primo round, calma Mamma mia che smongolato Oh, onda, onda E la madonna, quanti Non ci sanno i droni, eh? Non ci sanno i droni buoni Si vede un cazzo Un altro, te ne ha piazzato un altro sulla porta Lasciatelo giocare Ricopriamo il flank da scala al massimo Non riusciamo a farli più Quello si Corridoio Corridoio, scusa, il corridoio di 90 gradi Non mori mai, eh? Mmm È morto, invece Planta Almeno prova Jäger è nel bar È arrivato? Dov'era? Dietro di te stava, cioè Ma whatf, come è arrivato lì? Ma che dietro? Stava davanti? No? Ma? Stava davanti Era davanti In cavo Ma? Era bar cavo Raga, io non l'avevo il visuale e lo vedevo dietro Vabbè Lasciamo stare Un po' di bug La coltellata La coltellata io l'ho vista arrivare da dietro Vabbè bug Può capitare Allora Con calma Termi te Te, Thatcher Ma con te Ma con te Morire Ma ragazzi Gli è di nello, mamma mia Ma pure io, eh Corboia Ma non ho fatto neanche mezza caccia perché Volevo fare più cosa possibile Ho fatto, sai cos'è? Bandit mi ha pushato mentre stavo ricaricando Quindi non avevo l'arma pronta C'avevo tre colpi Gli ho sparato ma non sono bastati No, era un visuale, era un visuale No, non lo avevo Dai, perché prima l'ho vista era tipo Across the map, cioè Era possibile usare quel drone Era il soggiorno, te li su Però ho pensato che c'è vestizione Ma non te l'ho chiamato per chiedere Peccato perché era partito bene il round, più che altro Il drone alleato ha trovato una bomba Eravamo entrati belli cattivi Ci siamo fuori tutti alla fine Caveira non mi aspettavo A parte che chi era Chi era normato a proposito? Io Mi hai salvato tipo troppo la vita con Caveira Sì, è vero Eh, il puff dietro Sì Sì Il problema è che mi sono trovato Un Huawei Nell'angolo che mi ha fottuto un puffo Un ADS che mi ha fottuto un altro puffo Me ne è rimasto uno solo Boh, comunque te non non puoi capire, cioè Te non puoi capire ieri, onda Te non veramente non puoi capire Mi fai gasare così Io oggi non Anche se faccio schifo, guarda Non me ne frega come un cazzo Detto sinceramente Voglio vincere, però Eh, appunto I ranked le devo vincere Che voglio trovare Platino 2, però Io vorrei arrivare a Platino o meno Sa stagione, non se ne è Troppo No, raga, ma io non li vedo, poltroni Io non li mi interroga Ora, ora, basta Vabbè 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 Spotto legion In camera a letto Non hai più disinnescatore Ah, studio, finestra di studio Finestra di studio Che vera Sì, va posizionata Dai, bro No, pucia il mio drone Allora, guarda il mio drone Cazzo Cazzo, pucia il mio drone Cazzo, pucia il mio drone Cazzo, pucia il mio drone Vuole drone, non c'è il tuo drone Vero kill Me l'ha spaccato Eh, sì Cazzo, me l'ha spaccato Non più i drone, fuck Abbiamo il disinnescatore Cavera studio, cavera studio Non ho mica vista Ah, finestra di studio, sì Stavano qua Eh, c'ho 14 di vita, cancuno Dai, silenziata sta bastarda Panichi Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Cosa? Nonostante Diffuser dietro caldo, che palle, che palle, che schifo che sto facendo, che schifo, che sto facendo, che schifo, che schifo, che schifo, mamma mia, che schifo boh, io ho trovato un, c'ho fatto caso che ci fosse lì, non l'ho visto il drone su una sega calma, risettiamo e rigiochiamo dai, basta, basta ogni cup è che gioca Ash, oh mamma mia zero kill, nabo, Ash raga, talk with your friend e coppa, e coppo questi qua, anche questo dave senso talk with your fucking friend ma io l'ho mutato, vaffanculo non riesci a stare zitto ma spezzolo 1v1 dobbiamo individuare una bomba spezzolo quello ah beh eh, zero kill il drone alleato ha trovato una bomba comunque da una parte, perchè hai pusciato dentro il cavera in giro? so coglione! condannati praticamente non è vigil ma più che altro cazzo cavera, mi ha lasciato quattolici di vita, dio maledetto a me mi ha shottato quella cacchio di cosa silenziata manco il tempo di vederla eh ma è così purtroppo la cacchio eh 10 secondi all'inserimento cioè purtroppo per fortuna perchè poi quando la si usa è mostruosa eh con l'M12 poi raga non lo usa nessuna eh ora c'è un'altra sorta progete di innescare la bomba a studio ce ne stanno due si, su due arrola arrola oh SCALARCA oh diosiega ricarico copritemi drone, nabbo drone è attivato vota da sopra, copro uno studio da sopra si che regalo mamma va mi sei in mente scherzo da dove eh? è uscito da finesse alla sinistra ho capito drone drone in partenza vai alf drone ti la clamor shanks corridoio uamai corridoio uamai qua niente ho fatto il drone il mio caricatore cap'è sotto hai sceso la botola quale botola? è persa è da la botola di ufficio scusami l'ho persa va mai va mai ok vai alf dove stanno gli ultimi due le sto cercando hai trovato una bomba ah ma stanno sotto eh si l'obiettivo è sotto eh scusa ho fatto un fail bomba b c'è bandit regà come stavi cav eh cav cav da te anche morta cav ottimo vado 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 ottimo aah aah 0 2 0 2 aah 0 2 0 2 eh 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 iva 0 2 0 2 2 fanculo vai vai al cimitero coglione vai al cimitero dai calma coglione calma cof Fanno incazzare, quelli che rompono il cazzo, dai. Vatti a fa' una sega, il coglione francise di merda, lavati il culo, lavati. Scemo. Offendi, offendi, perché faccio zero kill? Alf, ti consiglio di stare un po' dentro, perché questi qua li vedo molto aggressivi fuori. Sì, sto dentro io, infatti, col pompa però. No, onda, t'hanno rubato... Col pezzo di merda t'ha rubato Jäger. Nip. Che se ne pushano dentro, li stompo, con sto pompa. Ah, va, te lo cechi dentro? Sì. Vai bene, va bene. Un caldo è fatto un'epica. Sì, fuori lasciamo Shanks e Honda fuori. Capito? Ho fatto un kill-ozione epica su caldo. La squadra è sbloccata. Io? Ah, vabbè. Modesti a parte. No, beh, no, cioè, non è fatto nulla di che... Questo buco è fatto male, va sistemato. Faccio io. Basta che non spari direttamente a noi. No, no, basta che non mi ha passato davanti. Sì, siamo a 10 secondi. Ora si passa. Casualmente ti passerò davanti adesso, e darò la colpa a te. Sì, sì, sì. Ok. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Mi scamprato il bar. GG. Drone da sotto. E infatti contano più delle parole. Hanno preso i gusti, stanno entrando in ufficio. Ho qualcuno che mi guarda la camma al 90, regà. Te la guardo io. Io. Ne è vuoto 90. Adore. Affete? Sì, sto io, sto io. Dove asci? Ufficio. Ma cos'è ufficio? Studio. Ufficio, quella stanza... Sì, studio, ufficio, chiamalo come vuoi. Se entra, chiamatemela, perché io sto con le camme. Ricarico! È lì in mira fisse. È lì in mira fisse. È lì in sledge, è lì in sledge? Qui? Ho fatto camme? Eh, non ho più la cam per l'onda, eh. Ah, è chiuso. Ottimo. L'ultimo ramico è rimasto. Sì, sì, dronata mano, vai. Ma che cosa sta vedendo, Jager, regà? Ti ha ma da dove entrare? È dallo Jager, praticamente. Però non ho... Non male che l'ho visto che stavo girando le camme. Non male. È fuori porta? No, è fuori da studio. Fuori da studio. Ok. Silenzio. Sotto, sotto. Che da bello ha rotto sotto? Ricarico! Chi è che c'è la sindrome del fischio? No, io non fischio, quindi. Eh, da, 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 da! Qu'è? Ok. È vero, comunque, l'hanno neffato sto pompa, eh. Eh, l'hanno neffato. L'ho sparatata lontano, guarda. Uno l'ho sbirato, è ok. Però da lì non fa niente. Beh, 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 vabbè. Va a fare... No, l'ho ammetto. Uno l'ho... V'ho detto tutto. Va a tirare, va a tirare. Eh, ragazzi, però, oh, alfa, scusami, devi fare la rotation. Tra statue e astronomia. No problem. Tra trofei e astronomia, scusa. Coppo, vuoi triccare? Ora guardo. No, per caso dipende se... Chi c'hanno... Come operatori. Tenere anche là sotto o no? Beh, il trick prova a farlo. Io un caid te lo metto nel dubbio. Sì, sì. Il trick lo faccio, il trick lo faccio. Ok. Io sto in avviatore. Eh, no. Fai le bocchie basse per il trick. Col trick o pom... Ah, non c'ho il trick. Ok, il trick. Eh, no. Vero, 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 vero. C'è quello di E. Ma c'è una dispersione troppo grossa. No, no, basta. Va bene, scusatemi. Si chiude. Molti. Chi fa esterno a sto giro? Eh, teoricamente te. Clamore su soggiorno. Si rompirò la finestra con la... Esattamente sopra soggiorno. La finestra di statue. Sì. Vedo un cazzo a ste cam. Onda. Onda dietro di te. Bravo. Non usci perché c'è la clamore. Ah, ti andrò un'altra dietro? Ah. Hanno trovato una bomba. Proteggetela. Arrivano... Camera da letto. Ok. Drone è una fermonia. Siti, coprimi. Un drone in switch fatto. Lì mi ha coprito a porta, lombi. Sì. Arrivo. Grazie. No, mettitela giù, mettitela giù. Aspetta. Occhio onda che a me come manodronato, che potrebbe esserci qualcuno. Sessori in campo. Niente, non sono riuscito. Flip. Due droni di switch andati. No, mi capirò il briccio a lontano, eh. Eh, sto coprendo la zona mia. Qui ho sbagliato una bomba. Eh, qui ho sbagliato. Eh, regà, che pallino. Sento cazzo, una piazza di terra. Zitto. Mina concursione. Sto a me è entrato. Twitch è morto. Ti dronano lombi, ti dronano dal bagno, dal bagno sono, eh. Ho visto, ho visto. Adorno a terra toscale. Miraci. Attivo il sensore. Sto facendo il giro d'astronomia. Alla porta, alla porta, alla mia, alla porta, alla mia, alla porta, eh. Esci pre-fire. Basta, andate via, andate via. Back, back bagno, back bagno. Occhio al bridge, lombi. Blackboard, bridge, blackboard, bridge. Bravo. Back bagno, regola e rabagno. L'hai stato, l'hai stato? Oddio. Come l'ho preso. C'ho ancora l'abitudine del dropshot. Come l'ho preso, rega. Ma, se il nove non te la riesce a... Ma, non te la riesce a levare, sta, sta cosa del dropshot, eh. No, no, purtroppo no, non riesco in nessun modo. Ci ho provato in milioni di modi. È un istituto. Io, per fortuna, l'ombaro lo faccio più. Ho ancora i tasti del dropshot, però a quelli non riesco a cambiare. Eh, ma anch'io. Quello, no, mi sono troppo abituato. Ma, cioè, l'hai visto come l'ho preso in hitfire? Sì. Comunque, avete visto quel cocio lì, ragà? Biblioteca. Biblioteca? Biblioteca? Biblioteca, no. E io, per la volta, faccio esterno. Andiamo a Cufina. Ah, no, allora va a fanculo. No, non mi ha preso in rischio. Allora vado a capire esterno. Andiamo a kitchen. Kitchen pranzo. Andiamo a chicken, allora. Ok. Oh, rega, io però ho quattro assist, porco Dio, li stai tentando tutti. Proteggete le bombe. Io bello, quattro e tre ultimo. Easy, zio. Il cazzo li stai tentando tutti. Palle. Le rinforzate, le rinforzate. Inforzate, rinforzate. Una lobby di fragger. Mi piace sta lobby. A parte il povero piccolo lobby. Chi fa esterno a sto giro? Io faccio il fragger ma failo. Li hit e basta. Eh, raga, mettiamoci d'accordo. Chi va fuori a sto giro? Ah, io sto dentro, tranquillo. Forse. Vabbè, cav era scontato. Chi altri? Io sto dentro. Chi lo sa? Io vado a guardare con il foggiorno. Ok. Dai, non iniziai a raffingermi. Rettano cinque secondi. Qua forse una rotation. Che dite? Rotation? Se vuoi te la faccio. Non so. Ma non lo so. Forse è comoda. Sì, è entrato già in montagna, raga, a soggiorno. Montagna e soggiorno. La squadra d'attacco ha trovato una bomba. Saranno pure bacche. Ash è entrato. Morta. Montagna è entrato. Questa finestra. Silenzio. Sta uscendo montagna. Vedete che finestra di scalera. Zofeli fuori, lombia. Finestra di scalera. IQ. Un corridoio. Ricarico arma. Non sento un casino, raga, non riesco a capire niente. Bada. Montagna è entrato. Preso il guscale sotto. Montagna è nell'anticamera dove c'è il soggiorno. Jäger, con frate di scalera. Jäger. Preso la mina, eh. Eh, montagna è un me, però. Metà vita montagna. Eh, la time in. Mondo occhi dietro. Qua a blu c'è montagna. Esatto. E c'è pure termite. Cazzo. Termite anche. Sì. Da montagne. Montagne e termite sono assieme. In teoria... Almeno erano. Ora non so. Siento coppo. Sì. Montagna è metà vita. Termite non lo so, eh. Spottano. Montagna è morto. È rimasto solo termite. È rimasto rimasto. Mancano 30 secondi, regà. Attenti. Carica, onda. Carica. Gioco il tempo. Aspettatelo. Eh, regà. Non ho... Montagna non si sa quando... 20 secondi, non piccate. Ah, bonoso. Non piccate. Dai, le cami si è ciechi. Sponti da quell'altra parte. Sì. 15 secondi. È da me. Grande coppo. Quanto era bella quella vina di Ela, proprio. Mua, precisa. Mamma mia, che chiglio fatto. Cheat, ai tonico, sega. Oh, regà. Io provo a rifannutare... Cioè, continuo a fare assist, eh. Sono in perterito a fare assist, io. Porco Dio. Comunque, che si guarda? Ma scassissime, regà. Sì, erano facili a fare. I primi due non ce li siamo fatti fare, male perché le vengono distratti. Esatto. Platino 2. Platino 3. Onesto. Oro 1. Esce, va. E... Penso a cazzo. Ah, proprio 3200 tondi tondi per il Platino 3. Bati. Chat party. Chat party. Oh, è così comunque. a vado i sì sì perché io c'ho il cammino di fianco la mia postazione mi riscaldo se dentro vero franco sì sì sono dentro a cala ti sento bene un pacchettino me lo apro sexy io non è che ti vedo viola che schifo io ho qualche partite cazzo sei partite circa partita ancora è lunga e fa che è proprio proprio due corbinocolo lo vedo quanto sto devo arrivare a 3.600 sono 400 diviso 60 e 4 circa 4 sì 8 sono 6,66 periodico in realtà vabbè si è rotata a 7 poi ti devi pensare che giocando si toglie i punti ma me ne dà 66 a partita ne ho contato 60 e ne è già contata la diminuzione è un genio è un genio lombardi ok ecco franco me lo fa vedere risettami il timer risettami il timer a regola 3.600 la trova cazzo ero così vicino era una partita dal platino fino a poco fa al platino 2 porca miseria adesso andrei chiamato al platino 3 tondo no io raga io ieri c'ho l'unico mi fa non mi rank ero platino dovevo sono sceso io sono a due partite al platino 3 se le vinciamo mancano 130 punti tondi tondi tocca per io mi sono rovinato giocando con cup e quei sui due amici che è stato anche colpa via che ho giocato di merda però mi sono rovinato facendo quelle partite ma puttana boia vabbè allora partita la vogliamo trovare ok errore matchmaking no come errore cristo la madonna però chi è? errore matchmaking fr...frencone errore matchmaking partita persa perchè l'aveva trovata non è che c'ha che è successo? quanto secondi ti riunisce? eh...errore eh ma anche a noi a tutti come anche a voi? alla parte aperta senza l'abbandono che mi rifà ritornai in partita? io sto riavviando io sto riavviando mi sa che da mi sa che ci da penalità dai però che cazzo non vorrei forse...è quello che stavo dicendo non vorrei forse con la...la torre armaità già ce l'ha fatto capite le...la prescente non è che le dalle non è che le dalle non è che cazzo 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 io sono da dritto io ho spettato no 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 dai non fatti niente eh riavvio anch'io ecco non riconnetti mi fa riconnetti che buona non è che cazzo